Buonasera a tutti, ben ritrovati, ogni 2-3 anni poi ci ripresentiamo e questa non è una brutta cosa, anzi vedo sempre tutti presenti quindi è una bella cosa. Inizio ringraziando la società, il Presidente, Peppe, tutti per questa opportunità, ringrazio Max per le belle parole, ringrazio voi perché in questo periodo di tempo avete scritto su di me, sul mio ruolo e ho letto tante belle cose, voglio dire che insieme qualcosa di bello l'abbiamo fatto. Per me inizia una nuova sfida, una nuova avventura e la faccio già con ossessione perché da 20 giorni che ci lavoro giorno e notte per poter allestire e trovare quegli uomini di cui parlava il Presidente, che vanno al di sopra dell'aspetto tecnico, dell'aspetto tattico, del ruolo. Per me è un'ossessione perché lavorando per la squadra, per la quali tifi non è facile perché va al di sopra di essere un dirigente di qualunque squadra perché sei legato a doppio filo. Però questa cosa mi inorgoglisce, sono strafelice, sono al lavoro per cercare di mettere tutte le persone giuste al posto giusto, cercando di fare meno di loro possibili. Siamo già a buon punto perché il quadro del settore l'ho quasi completato e in anteprima vi posso dire che la prima settimana di luglio presenteremo tutto il settore giovanile, composto da staff tecnico, preparatore a 13, staff sanitario, quest'anno aggiungeremo la figura del nutrizionista. Stiamo allestendo un settore giovanile formato da uomini importanti, uomini che devo ringraziare perché quando ci siamo confrontati l'ultima cosa che mi hanno chiesto era l'aspetto economico. Quindi sto trovando persone che hanno passione, che hanno voglia e credono in quello che gli ho proposto e quello che gli sta proponendo la società. È un'avventura nuova, è il primo anno che inizio a fare questo lavoro. Spero di onorare quella maglia che noi amiamo come ho fatto da calciatore. Questa è una cosa che, ripeto, sono troppo legato per non far ciò, a far rispettare quella maglia che tutti noi amiamo. Ho poco altro da aggiungere perché sono abituato a lavorare, non a fare tante chiacchiere.